Eccoci qua a commentare questo interessatissimo manifesto del Salone del Mobile, naturalmente questa ricorrenza meravigliosa annuale cade in una contingenza favorevole alla ripartenza di questa città in tutte le sue componenti, forse finalmente possiamo dire che il traghettamento la città postindustriale, la città artistica è quasi compiuto, il turismo è esploso a Milano e i grandi appuntamenti che sono la moda e il design riempiono di gente, di affluenza straniera la città che è sempre più viva e sempre più bella, quindi di questo ringraziamo il Salone del Mobile naturalmente. Il manifesto credo mi sembra che rappresenti un punto veramente importante e di svolta diciamo, in cui tutti possiamo riconoscerci, tutti noi che operiamo nel campo della creatività e dell'arte e di questo ringraziamo tutti, siamo molto felici e rappresentati da questo bellissimo momento per la città.